Il turismo in Toscana batte un nuovo record e supera la quota dei 48 milioni di presenze. Secondo i dati del rapporto IRPET, gli arrivi in strutture ufficiali segnano un più 4,5% e le presenze un 3,8% in più rispetto al 2017. Tra il 2009 e il 2018 il turismo ha creato circa 22.300 posizioni lavorative in più. A fare da traino gli arrivi internazionali grazie a due elementi chiave in cima alle preferenze, città d'arte e paesaggio collinare. Sono i mercati esteri a dare il contributo maggiore ma in crescita anche il mercato interno. C'è bisogno di struttura, c'è bisogno di un approccio sistemico a questo settore, c'è bisogno di un rapporto costante di accompagnamento ai territori, agli enti locali, alle aggregazioni territoriali. E c'è bisogno di impresa, c'è bisogno di una cultura di impresa in questo settore che abbia quella competenza, quella disponibilità, quella aggressività che serve quando si competono su mercati globali. Se riusciamo a fare questo passaggio, a fare il sistema tra istituzioni, istituzioni locali e imprese, credo che la regione possa cogliere almeno in maniera più consistente le grandi opportunità delle quali dispone. I risultati ci stanno confermando che siamo sulla buona strada, non bisogna sedersi, non bisogna sedersi. Nel 2018 è da evidenziare la maggior dinamicità degli ambiti che contengono città d'arte e quelli rurali e collenari. Più lieve è l'aumento per la montagna, mentre il sistema balneare della costa degli Etruschi soffre il ritorno della competizione internazionale. Rilevante è la crescita delle città termali, anche se non ancora in grado di recuperare pienamente i livelli pre-crisi. Tra gli ambiti più dinamici in termini di presenza è crescere sorpresa quello del Valdarno-Aretino, che segna un più 16,4%, grazie all'aumento delle presenze italiane rispetto a quelle straniere. Per la costa si segna sostanzialmente una battuta di arresto, perché poi se andiamo a analizzare i dati è andata molto bene la primavera, è andata abbastanza bene, chiamiamolo l'autunno, e proprio i messi centrali. Però sono elementi su cui riflettere, perché la costa è un prodotto maturo ed è un prodotto presso il quale, come dire, la concorrenza è ritornata imperiosamente. Ci vi erano offerte che non esistevano più negli ultimi anni per tantissimi motivi, soprattutto nel sud del Mediterraneo, che ora stanno ripresentandosi sul mercato. E quindi va seguito con grande attenzione. Per quanto riguarda le aree, Valdarno-Aretino ha avuto un'evoluzione in linea con quelle che sono le dimensioni di tutto l'offerta di carattere collinare della campagna. Quindi la riscoperta di luoghi nel quale si fa una vita più tranquilla, a contatto con la natura, dove si percepiscono i prodotti del territorio, è un asset che è diventato fondamentale per la nostra regione.